Questo trick non lo conoscevo No, questa moto non l'avevo mai vista Non l'avevo mai vista questa moto Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi sono con lui, The Real Street Boys Io ados, grazie mille per avermi in questo video Ovviamente grazie a te perché la sfida sarà 2 contro 2 quindi devi giocare come sai fare Ok, un po' di street Portiamo un po' di street a Milano Ragazzi, chi vince? Diamo 5 euro a testa alla squadra a Versailles giusto per renderla un po' più piccantina Più sudata, esatto Spero di non perdere soldi, quindi io conto su di lui assolutamente Quindi io direi di iniziare ragazzi non perdiamo tempo, andiamo a vedere quanta gente c'è e chi sono gli studenti Allora, questa è la gente che ci sfiderà oggi Ale Guarda quanta gente c'è 5 euro qua 5 euro a testa, quindi sono 10 che regaliamo Io direi di iniziare prima squadra a caso la scegliamo Come ti chiami? Pietro Pietro e Eva Da dentro, vale 1 da fuori, vale 2 Palla a chi segna Volete giocare una palla? Ok, palla nostra 2, 2, 2, 2 Oh, nooo! Non male che c'è da Ria, se no qua Ho rotato Ho scoperto Ho trovato tranquillissimo Ho perduto la tratta per il vinto Non ci credo Non ci credo Altre avvezzari come vi chiamate? Lucas e Gabriele Siete pronti? Giocate la palla? E' importante di viazirsi Non ci credo Sì, vai! Vai, vai! No! Go the way! Grazie a tutti. No! 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 Bueno male che c'era, Alessio! Passiamo ai prossimi! Vedo al rosario! Prossimi avversari! Ragazzi! Siamo stanchi! Non ho calcolato che devan fare tutte le partite di schiera! quindi mi viene dopo più facilità voi siete Leonardo e Brian grazie Ecco in questo momento dopo tutte le ore che stavano giocando ho avuto un crampo a polpaccio e sono stato costretto a fermarmi per qualche minuto Allora mi sono rotto una gamba, manca credo l'ultimo punto, ora lo vedremo Cerca di chiuderla perché ho la gamba C'è un crampo che non lo conoscevo Ma questo non è mai spesso Non lo vado mai spesso Non lo vado mai spesso per quanto ha fatto la nuova? E i soldi lui vero? Raga mi ha fatto un trick assurdo Ma me lo insegni poi Gamba è un po' così e così Ma io mi sono divertito Spero anche voi ragazzi Spero che vi siete divertiti Lasciate un like a questo video Scrivetevi al canale di Peria Stable raga Scriviamo al prossimo video Fate come si prepara lì Ciao ragazzi